Centro Stile presenta il video ingranditore da tavolo Infinity. Il video ingranditore si accende facilmente premendo l'apposito pulsante. Per ingrandire o ridurre la visualizzazione di testi o immagini, premere l'apposito pulsante, muovere il carrello orizzontalmente o verticalmente per visualizzare le immagini e ingrandire il testo. Infinity è dotato di una comoda linea guida orizzontale e di una finestra orizzontale regolabile in base alla necessità. È possibile bloccare l'asse verticale e orizzontale tramite l'apposita leva posta alla base del video ingranditore. Per modificare il contrasto, premere ripetutamente il pulsante giallo posto sulla sinistra della tastiera. Per spegnere lo strumento, utilizzare l'apposito pulsante. Una volta spento, potrà essere abbassato, ottenendo il minimo ingombro. Infinity completa la gamma dei video ingranditori da tavolo di produzione europea distribuiti da Centro Stile. Around low vision, around people.